Sfetta la montagna su Belborgo di Fara San Martino, dove incursano tre giorni di diverse iniziative, dalla natura alla cultura, alle tradizioni, allo sviluppo delle zone interne, al turismo, alla convivenza tra fauna selvatica e uomo, con uno sguardo alla coesistenza con l'industria pulita. Il sindaco di Fara San Martino, Antonio Tavani, è entusiasta di questa iniziativa, che si declina in vari modi ed è rivolta a tutti. Sì, tre giorni da venerdì a domenica, come tradizione nell'ultimo weekend di luglio, tre giorni su cui ci fermiamo a ragionare sulla montagna, sui temi della sicurezza, sui temi della fruizione consapevole. Lo facciamo con tre momenti molto belli, alti dal punto di vista culturale e scientifico. Lo facciamo poi anche affrontando e raccontando le sfide che la montagna ci invita a correre, quindi proprio quelle di correre verso la cima della Maiella, Monte Amaro e ritornare giù. Questo che avverrà, questa Xtreme, seconda edizione, avverrà domenica. Lo facciamo correndo dentro al borgo, dentro a Terra Vecchia. Lo facciamo facendo da mesi esercitare tutte le scuole di questo comprensorio, ben nove comuni coinvolti con sedici scuole, a raccontare quello che evoca nei nostri bambini dalla materna alla primaria, alla secondaria, il tema Ti amo Montagna. Lo facciamo con una testimonianza importante che ci arriva da amici nepalesi. Paolo ci aiuterà a tradurre perché siamo con due ragazze nepalesi. Namaste. Namaste. E ci aiuterà a raccontare la storia di queste due ragazze. Ada ha il personale record della donna più veloce al mondo ad aver raggiunto la vetta dell'Everest con 25 ore e 50 minuti. Congratulations. Thank you. Anche lei però alla montagna non rinuncia. Assolutamente no, non sono un alpinista come Ada, ma amo la montagna, ha raggiunto anche lei la vetta dell'Everest con un team tutto femminile, del quale anche lei ha un record per questo motivo. Tornando in Abruzzo, la nostra regione è spesso dai media considerata virtuosa nella gestione dei parchi, il presidente del Parco Nazionale della Meela Zazzara. Una regione molto virtuosa proprio per quello perché mi pare che stia avviando ad essere un laboratorio da un punto di vista nazionale della possibilità di convivere tra attività molto importanti anche del sistema produttivo come l'industria per esempio, come alcune concentrazioni urbane molto importanti come le infrastrutture che esistono e anche ad un livello ben sviluppato e questa dotazione stupenda di natura che ormai entra nella nostra città e forse dovremmo prenderne coscienza.